Come installare Linux Mint con partizionamento manuale. Perché non seguire le impostazioni automatiche suggerite in Come installare Linux Mint in modo facile? Vediamo come installare Linux da solo o a fianco di Windows, creando manualmente le partizioni e senza seguire la modalità automatica. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Il partizionamento manuale è il modo più tradizionale di installare Linux e fornisce maggior controllo e flessibilità in tanti tipi di scenari differenti. Se mi chiedi un consiglio, desideri installare con il minimo sforzo e complicazione, io ti invito a verificare il video per l'installazione di Linux con partizionamento automatico. Minori partizioni significa anche minori problemi in fase di aggiornamento di versione del sistema operativo. Nel video prima di installare Linux abbiamo visto come preparare il PC all'arrivo di un nuovo sistema operativo, come scaricare, verificare e preparare un supporto USB con Linux e come provare che tutto funzioni. In Installare Linux Mint in modo facile, come installarlo nel modo più semplice tra quelli previsti. In questo video vediamo come installare Linux Mint da solo o affiancato a Windows non seguendo l'installazione e la preparazione automatica delle partizioni disco necessarie, ma creandole manualmente. Può essere utile per comprendere meglio i meccanismi di funzionamento di Linux e adattarle al meglio in base alle proprie esigenze. È prima indispensabile comprendere quali siano obbligatorie, quali facoltative e perché farne alcune e non altre prima di mettersi all'opera. Le partizioni obbligatorie per installare Linux sono solo due. Diverse ragioni connesse spesso alla scelta di fare partizionamenti manuali è legata all'opportunità di separare le componenti operative delle parti del sistema, con partizioni che non sono obbligatorie. Ogni computer ha bisogno anzitutto di una partizione per il bootloader, il meccanismo di caricamento del sistema operativo. Se installi Linux in dual boot, in un computer in cui sia già presente Windows, una partizione di sistema EFI è già presente. Al termine dei partizionamenti Linux la utilizzerà automaticamente per installarci il suo bootloader, accanto a quello di Windows, per consentire la scelta del sistema operativo all'avvio. Se invece installi Linux come unico sistema nell'hard disk e non segui le indicazioni automatiche, dovrai crearla e vedremo come fare. L'unica altra partizione necessaria è quella che ovviamente ospita il sistema operativo, i programmi già inclusi e installati successivamente. Essa conterrà anche documenti personali e configurazioni salvate nelle cartelle home per i singoli utenti accreditati. Questo per impostazione predefinita, perché in effetti puoi creare una diversa partizione per la cartella home. Ad oggi molti utenti ricorrono al partizionamento manuale soprattutto per la creazione di una apposita partizione, per la verità non indispensabile, per lo spazio di swap di Linux. Ho parlato dello swap ad esempio anche nel video Rendere Linux Mint più veloce. Si tratta di uno spazio su hard disk in cui sono temporaneamente parcheggiate informazioni quando alla memoria RAM non basti a contenerle tutte. Lo swap è utile se un bug in un programma esaurisce la RAM rendendo instabile il sistema. O più spesso quando cerchi di far compiere operazioni troppo impegnative ad un computer inadeguato e con troppa poca RAM. In Linux Mint apri il menu, digita task e premi invio per avviare il monitor di sistema. In altre distribuzioni GNU Linux troverai sicuramente un monitor di sistema in modo simile. Sotto la scheda risorse, a proposito di cronologia, memoria e swap, trovi dimensione e impegno del file swap usato. Come detto una partizione per lo spazio di swap non è obbligatoria. Infatti l'installazione automatica di Linux Mint, anche altre distribuzioni, crea automaticamente solo un file di swap nella stessa partizione del sistema. In ambiente Windows lo stesso meccanismo è previsto nel cosiddetto file di paging. Io sono convinto che nel PC di un utente comune questa soluzione sia sufficiente. Anche perché la maggior parte dei programmi più complessi prevede ormai una procedura di recupero per file salvati non correttamente. Altra ragione per cui alcuni desiderano una partizione di swap è per consentire l'ibernazione del sistema nei computer e sistemi Linux che la supportano. Io non ho mai affrontato complicazioni e problemi che leggo sorgere molto spesso con questo meccanismo. Sia perché non è detto che il riavvio dopo una ibernazione risulti più rapido di un avvio normale. Sia perché nelle pagine ufficiali di supporto di Linux Mint si legge già che l'ibernazione non va d'accordo con schede grafiche Nvidia. Oggi vogliamo creare comunque una partizione swap per la maggior stabilità del PC rispetto al ricorso al file swap creato automaticamente. Per passare alla questione della quantità di spazio da riservare alla partizione swap è facile trovare pareri di ogni tipo, informazioni più o meno datate e non sempre rivolte all'utente comune per il suo PC ma al sistemista Linux per un server. Mi limito quindi a riportare le indicazioni dal manuale ufficiale per l'installazione di Red Hat Linux Enterprise al punto schema di partizionamento consigliato. Nella pagina si legge, nel passato la quantità di swap consigliata aumentava in modo lineare con la quantità di RAM nel sistema. Poiché la quantità di memoria nei sistemi odierni è aumentata nella misura dei centinaia di gigabyte, è ora consigliato che la quantità di swap necessaria per il sistema sia in funzione al carico di lavoro in esecuzione su un determinato sistema. Ed ecco la tabella che Red Hat indica per la partizione di swap. Tieni a mente il valore adatto per te perché più avanti vediamo come aggiungere una partizione per lo swap. Altra ragione per cui talvolta si sceglie il partizionamento manuale è la possibilità di inserire la cartella home con le singole cartelle di documenti degli utenti in apposita partizione, separata dal sistema e dai programmi. Ora anche in questo caso si tratta di una partizione non obbligatoria per far funzionare Linux. E io ritengo sia utile solo se reinstalli spesso la stessa versione dello stesso sistema operativo Linux. È fortemente sconsigliato di condividere una partizione home con altri sistemi Linux in multiboot. Il peggio che puoi fare è condividerla con una differente versione del medesimo sistema operativo. La cartella home contiene anche i file di configurazione del sistema e dei programmi, in cartelle normalmente invisibili nascoste. È alto il rischio di conflitti perché i medesimi programmi installati saranno previsti in versioni certamente differenti nei repository, gli archivi ufficiali di software delle due versioni. L'unica altra valida ragione per creare una partizione home è quella di posizionarla in un disco dati differente, magari un capiente vecchio disco meccanico senza dover sovraccaricare un eventuale SSD. Ma in tanti hanno già un disco separato dal sistema per i documenti e anche dalla struttura prevista per le cartelle dentro home. Io faccio così da Windows 95. Mai tenuto i miei file nelle cartelle documenti previste dal sistema. Già questo basta a separare la salute del sistema da quella più importante dei dati. Se vuoi creare una partizione home, la dimensione dipende dalla quantità dei documenti che vuoi salvare e anche dalla quantità di spazio che puoi riservare al sistema e ai programmi. Do per scontato che tu conosca le fasi dell'installazione di Linux Mint fino alla scelta dei codec multimediali. È da questo punto che proseguiamo, dalla scelta del tipo di installazione. Oggi vogliamo installare Linux creando manualmente le partizioni necessarie e quelle opzionali. Procediamo con altro sia per installare solo Linux sia per affiancarlo a Windows o macOS nella modalità chiamata dual boot. Si apre una finestra di g-parted, apprezzato strumento di gestione delle partizioni che è bello avere sempre nella chiavetta di installazione di Linux Mint. Lo ribadisco, se intendi affiancare Linux a Windows già installato nel PC, una partizione EFI deve essere già presente. Se Windows è presente ma non trovi una partizione EFI, allora il tuo PC è configurato per un sistema basato su legacy BIOS e MBR. Ho chiarito questi aspetti in preinstallazione di Linux. Se invece il disco è vuoto o se intendi cancellare tutto ciò che contiene, compreso Windows, lo avrai già formattato o lasciato libero e non allocato da Windows. Nel video citato trovi informazioni a riguardo. Identifica nella finestra di g-parted lo spazio libero del disco. Aggiungi una partizione con il più sotto l'elenco delle partizioni. Possono bastare 300 MB anche se intendi installare molteplici distribuzioni Linux in multiboot. Nel menu usare come seleziona partizione di sistema EFI e conferma. A questo punto sai già se intendi creare partizioni opzionali. Per creare una partizione per lo swap seleziona ancora lo spazio libero. Con il più aggiungi una partizione. Io userò 4096 MB, cioè 4 GB per la mia. Verifica le indicazioni raccomandate prima se le hai saltate. Nel menu usare come seleziona area di swap. Con i moderni SSD non ha molto più senso la sequenza e posizione delle partizioni come invece influiva con i dischi meccanici. Ma è il momento di creare la seconda partizione obbligatoria per il funzionamento del sistema. Quella che conterrà la radice di tutto quanto il sistema operativo e dell'hardware installato in un unico percorso. Non C2, D2, eccetera, ma un'unica entità che le contiene tutte. La radice di tutto. La partizione per la cartella root, indicata con il semplice slash. Per non dover intervenire successivamente dall'esterno del sistema con delicate redistribuzioni di dati, non dovrebbero essere meno di 100 o 120 GB, ma anche di più se vuoi installare programmi e salvare tanti file senza creare una partizione home. Se crei un'apposita partizione per la cartella home, ti direi di riservare alla partizione root almeno 60 GB per far stare comodo il sistema e diversi programmi. Per creare la partizione root, seleziona lo spazio libero e con il più crea una partizione primaria all'inizio di questo spazio, nel formato filesystem ext4 con journaling, come suggerito. Il punto demount sarà il primo dell'elenco, quello radice, indicato con il percorso base slash. Se ti resta troppo poco o non hai spazio a sufficienza, starai sacrificando Linux in uno scenario in cui non potrà fare bella figura. In assenza di una partizione opzionale per la cartella home, il sistema la posiziona nella medesima partizione in cui risiede il sistema operativo Linux e i programmi. Se hai deciso di crearla, saprai già quanto dello spazio libero hai lasciato per questa partizione. Seleziona ancora lo spazio libero e con il consueto più sotto l'elenco delle partizioni, lascialo tutto alla nuova partizione primaria, all'inizio dello spazio disponibile e imposta come punto demount home. Il sistema di installazione ha ricevuto tutte le informazioni su come gestire l'hard disk ed è pronto a creare le partizioni. La partizione EFI di Windows sarà usata automaticamente per l'eventuale affiancamento, oppure sarà usata quella creata appositamente. Per migliore comprensione del meccanismo e per maggiore sicurezza selezioniamo la partizione EFI nel disco in cui intende installare anche il sistema e conferma che il bootloader, il meccanismo di avvio di Linux, dovrà venire posizionato lì, nella partizione di avvio boot. Clicca su installa e saranno riepilogate le operazioni che vengono compiute per il partizionamento. Confermando con Avanti, l'installazione prosegue come nel video Come installare Linux Mint in modo facile. Arriva la richiesta di indicazione del fuso orario, dei dati utente, poi la copia dei file e l'installazione si avviano assieme alla presentazione di Linux Mint. Puoi sfogliarla mentre attendi 5-10 minuti richiesti di solito per completare le operazioni e riavviare Linux installato dal disco e non più dalla chiavetta. Al riavvio, la schermata del programma GRAB potrà presentarsi in una forma simile a questa. In ogni caso avrai un menu di avvio che prevede l'avvio normale di Linux, una modalità di opzioni avanzate che può tornare utile in caso di problemi, una riga per avviare Windows se mantenuto, l'accesso al firmware del computer o della scheda madre. Selezioni con le frecce direzionali sulla tastiera e confermi con invio. La prima opzione, evidenziata automaticamente, si seleziona da sola entro 10 secondi. Premi subito invio per non attendere. Adesso puoi seguire la post installazione che sarà presto aggiornata e le altre configurazioni suggerite. Oppure scoprire come fare di tutto con Linux Mint nel mio ebook Linux Mint 21.1 manuale d'uso. Sono felice per la tua superiore nuova conquista. Ti ringrazio per aver visto il video e ti auguro una buona scoperta di Linux. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.